Saluto carai, e di nuovo felice a Cristnascone, oggi è Cristnascone, e mi decidis passi mio tempo con donazzo chiun mi faris al mimem. Nome nuovo libro, per il software della lingua capabile, di Raffaele Simone, e mi devo dire che oggi è una vera leggenda. Mi auguro che ci sono molti libri per il linguistico in Esperanto, ma penso che la prima volta è il volume. Grazie di mio amico e collega Davide Astori, professore per il linguistico e interlinguistico all'Università di Parma. C'è un problema grave, perché molti esperantisti, però il fatto che gli parlano esperanto, gli pensano che gli sono linguisti, e, infatti, ecce, fluparolantoi e gravuloi in l'amovado diranno grandi stoltaggi in l'aula linguistica. La nuura ferro è educa gente, perché non c'è un università che educano in Esperanto. Ci sono alcuni spure, di oggi, in Pozzano. Ci sono un'avventura, in quella denominata Esperanto in Sulu, che mi sono anche parto prendere. Mia cursone estas, dio, estas curso pri, en conduco alla lingua. Bone, denove, felician kristnascon, kai mi lassas nin alla medito, restu con ni, kun meditu con ni. Dankon. Saludon, kai bonvenon a nienova zamen hofame dito. Hodiau, min volas legi du el tiroin, facte, el pago 36, kiu estas, pago el esenso cae estontezo, la tractajo kiu aperis en la iaro 1900, kai la du el tiroi parolas pri lingvistoi. Stiante, che la publico taxos cium proiecton conforme altio, kiel al gi rilatos la instruitae lingvistoi, ili sorgas ne pretio, che il ia proiecto estu effettive tauga por io en la practico, sed nur pretio, che gi en la unua minuto faru bonan impression sur la lingvistoi. Portio, ili prenas, sia in vorto in prescao tutte sen ia sciancio, e la plei grava iam existantai lingvoi naturai. Plisube, char se la plei grava merito de lingvo internazia consistus entio, che gi ciel eble e plei facile estu, tui comprenata della instruitae lingvistoi, ni ia portio ci, povos simple preni ian lingvon, exemple la latinan, tuten, sen, iai, sciancioi, kai la instruitae lingvistoi gin ancora pri facile comprenos per la unua foio. Zamenhof tiutempe devis lucti contra la facto che lisne estis facte instruitae lingvisto, laula criterioe della tempo, cai do pli instruitae homoi olli pretendis fare ion pli taugan por anstatavi Esperanton en la clopodo igi internazia lingvo neutrala lau la genta vid punto. Do est astute compreneble che Zamenhof defendis Esperanton contrau la multai reformoi de latino cui aperis en tio epoco, factela bela epoco. sed la paradoxa resulto de tio estas che en la esperanta culturo la lingvistoi estas generale consideratai stultuloi cai ni devas esperantistoi comprenigi al ili che ili estas stultuloi char ili ne comprenas Esperanton do ili comprenas nenion apri lingvoi cai linguistico do tio estas grandiosa bumerango char fin fine neniu povas esperi convinci faculon che ri estas complete erara en sia faco al quiu ri dedicis la tutan vivon almeno professia ved avrinde ti ocasas ofte tro ofte en esperantui do nicessu meti nin mem sur piedestalon por lernigi al linguistoi linguisticon cai tutte male ni studu linguisticon por clarigi esperanton per la faco della linguoscienzoi sed schiena salmiche vere ci foie miestas vocio crianta en la deserto grazie